eccoci e bentornati sul mio canale nuovo e veramente ricchissimo video rumors sul prossimo capitolo di grand theft auto della rockstar games sta parlando di gta 6 oggi parleremo veramente di tantissime cose grazie ad un articolo che è stato pubblicato sul sito fraguero.com di cui vi lascio il link in descrizione a quanto pare gta 6 dovrebbe arrivare secondo quest'articolo tra la fine del 2018 e metà del 2019 e quindi probabilmente non vedremo un trailer del gioco almeno per un altro anno quindi dovremo attendere almeno fine 2017 per vedere il primo trailer di gta 6 con l'annuncio il prossimo gta il prossimo grand theft auto potrebbe avere secondo gli ultimi rumors un ambiente futuristico infatti potrebbe avere alcuni ambienti alcune armi che non hanno nulla a che fare con il presente o con il passato sicuramente un gta ambientato da luoghi futuristici sarebbe veramente diverso e andrebbe a snaturare a mio avviso il concetto originale di questo franchise ma potrebbe offrire ovviamente un cambiamento del gameplay comunque secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe improbabile che la rockstar games prenderà il rischio di prendere questa importante decisione di andare a cambiare proprio il concept del gioco quindi sembrerebbe questo essere un rumor ultimamente smentito rimanendo quindi in tema di ambientazioni ma soprattutto di location il prossimo gta ancora non si sa dove sarà collocato alcuni vogliono gli stati uniti altri città come bogotà o tokyo e addirittura in molti parlano anche dell'inghilterra del regno unito ma lì ci sarebbe il problema delle auto da sempre con la guida a sinistra quindi andrebbe a cambiare anche il gameplay del gioco mentre nel caso in cui venissero confermati gli stati uniti sia i fan che gli analisti parlano sia di san fierro della sventuras ma anche andare a contenere come avevo detto più volte ai pezzi di mappe dei precedenti titoli di gta anche se molti fan e gran parte delle analisti pensano che il prossimo gta sarà ambientato a san diego quindi una san diego nuova di zecca per il prossimo capitolo della rockstar games secondo alcune fonti il prossimo gta inoltre è in corso di sviluppo anche se la rockstar games come io ho detto si sta dedicando veramente anime corpo ai contenuti di gta online quindi è sempre più probabile l'arrivo del gioco fra il 2018 e il 2019 per quanto riguarda il gameplay non dovrebbe andare a cambiare rispetto al passato infatti secondo alcuni aggiornamenti di diversi analisti sembrerebbe che il gameplay resterà praticamente lo stesso l'unica cosa ci sarà sicuramente qualche novità ma nessun cambiamento drastico e per finire l'annuncio quando ci sarà l'annuncio di gta 6 in molti sono straconvinti che l'annuncio ufficiale sul prossimo titolo di gta ci sarà dopo il rilascio di red dead redemption 2 quindi per non far perdere l'hype ma soprattutto per non far perdere di importanza questo attesissimo gioco in arrivo il prossimo anno al momento confermato su ps4 xbox one fatemi sapere che cosa ne pensai di questi nuovi rumors in merito al prossimo capitolo della rockstar games e noi ci vediamo con tanti nuovi video video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale